Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro secondo canale, La Coppia che Scoppia, vlog Tu tu, turururu, tu 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 Ah, questo oggi, dopo la sconfitta dell'altra volta, sono tornato più carico che mai per distruggere Alice in una delle challenge, scusate se non riesco a parlare bene ma sono, c'ho il chiodo fisso perché quella telecamera mi sembra tutta sorta verso di te In che cosa consiste questa challenge? Allora, questa challenge Come ho parlato? Hai detto questa challenge? Questa challenge consiste nel rispondere a determinate domande Che noi troveremo su quest'app che si chiama Kingdoms qualcosa Sono domande fatte da alcuni fan Fancy Tra cui il nostro caro amato Zuer Ringhito Ciao Zuer Che salutiamo Io faccio delle domande a te Sì Ok Ecco, uno a uno Chi arriva prima a dieci ha vinto Ok, nessun bonus, niente su questo Senza bonus, vai Il fatto che noi avendo fatto 200 video non possiamo ricordarci le domande sui primi video Giochiamo Iniziamo, vai Faccio la prima domanda io a te Che arriva prima a dieci Come si chiama la gatta della coppia che scoppia? Vabbè Nala Paolo, questa era facile Vamos Continua Tocca a me Cioè, neanche ha letto le altre Quale Funko Pop o Funko? Funko Pop Quale Funko Pop Alice ha regalato a Mirko? Dei Pokémon? È legge Di Harry Potter? Di Dragon Ball? O di Doraemon? Harry Potter Giusto Belle queste domande, mi piacciono ragazzi Vai, vai, certo Perché finché indovini Come si chiama il primo video che hanno pubblicato sul canale YouTube? 18 scuse per lasciare il tuo partner 10 tipi di coppie al ristorante Le gioie della vita O 8 frasi che i ragazzi temono Allora, io so il primo di Facebook è quello di San Valentino Ma su YouTube abbiamo caricato per il primo Mi sembra 20 frasi 20 frasi Non c'è il 20 È 18 scuse per lasciare il tuo partner 18 scuse Penso che sia quello su YouTube Anch'io penso, però No! Tempo scaduto! C'è un tempo! Non sapevo che ci fosse il tempo A Mirko piace fare la canti o balli per di challenge? No Sì Forse O non lo ha detto? Non lo hai detto questo È falso Non mi piace L'avevo detto in un video Ho detto che non l'avrei mai fatta nella mia vita Come si chiama il cane? Fufi Macchia Leo Spike Abbiamo il tempo Io direi Spike Dai dai Leo Leo dai È facilissimo Abbiamo il tempo qua purtroppo 2 a 1 Da chi viene interpretata Clarissa nell'unico video dove si fa vedere Da Eleonore Ludo di Capagani Ah non mi fai neanche dire le opzioni Non aspetto neanche dai Ludo di Capagani Da rape C'era anche rape Come si chiama Mirko per intero il nome e cognome? Mirko Leonardi Mirko Leonardo Bo Mirko Franceschi Ma io direi Bo Però scusate Mirko Leonardo Mirko Leonardo Però scusate È capitata a me La sua domanda fatta a lui Continua Perché questa è Continua Sicuramente per i fan Hanno mai fatto la mangio la scarti challenge? No Mirko voleva ma Alice si è rifiutata Volevano ma non l'hanno mai fatta? Sì Sì Attenzione Corretto Bello comunque Alcune domande però Annaggia Questa caramella fa schifo Cosa regalò Mirko ad Alice per San Valentino nel 2020? Perché si lo ha costanto Un nuovo computer Un nuovo telefono Una Nintendo Switch Un viaggio a Samsung Un viaggio Questa è bella fresca Questa domanda Un viaggiettino ad Amazon Guarda se mi dicevi del 2018 Già non me lo ricordavo Anche del 2019 Quindi siamo 3 a 4 Tieni Zuer come le hai formulate queste domande In che anno è stato pubblicato il video a Parigi? Ecco io questo qua per esempio non lo so Io la sbaglierei È stato il secondo anno che stavamo insieme 2019 2018 2017 Non è stato mai pubblicato 2018 2018 Io te lo giuro che sbaglierei tantissimo Sbagliato 2019 Scema l'anno scorso a Parigi Che scema No caro No caro Ha sbagliato Zuer Non ha sbagliato Zuer Basta andare a vedere Guarda che non è scemo Zuer Ragazzi vuole sfidare il creatore delle domande Scrivi la coppia che scoppia a Parigi 2018 2018 Hai sbagliato la domanda Zuer È bello che tu Tu credi di poter competere con me con le date Io mi ricordo perfettamente i regali che ti ho fatto per i tuoi compleanni E questa te l'ho fatta per il tuo compleanno Io non mi ricordo neanche quando faccio il compleanno Per farvi capire A questo punto ragazzi Io farei una cosa Io lo darei doppio Perché lei ha battuto la domanda 5 a 4 5 a 4 No aspetta come 5 a 4 Eh sì erano 4 a 4 in teoria perché facevo il punto uguale Però mi ricordo tutto doppio Quindi Perché non sto zitto io Maledizione Andiamo avanti La ninja Hanno mai portato Pokémon Go? Perché non ci sono le altre domande? Comunque no non abbiamo mai portato Pokémon Go Però Uh questa qua forse puoi sbagliare Perché tu hai un po' di problemi di memoria Come si chiama la prima parodia che abbiamo fatto? Mangio come un maiale Volare Studiare Nessuna di queste Studiare Studiare? Sì Sei sicura? Non mi depistare smettila Io fossi te ci penserei Studiare Studiare Indovinato 6 a 5 Inizia a venire Milanzia Dove vanno nel loro unico vlog settimanale? Sardegna, Sicilia, Calabria, America Dai però è facile In che senso nel loro Ah perché abbiamo fatto Calabria Che mestiere E questo è facile però Che mestiere avrebbe voluto fare Alice Se non la youtuber? La receptionist? La dottoressa? La cuoca? O la cantante? La receptionist E beh grazie scusa Io lo chiedi a lei Santo iddio Vabbè a te ha chiesto Quanti chiami cazzo Mettetevelo in testa Porca papazza Chi dice questa frase? Alice Rape Mirko Mario Che bello Questo è difficile Hai 22 secondi 21 Ray Mario Sì 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 Chi ha vinto nella Indovina la canzone challenge? Io non me lo ricordo sinceramente Alice Mirko Non lo so O nessuno dei due E nessuno dei due In pare In pare 15 secondi Mirko 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 Ah vai così Mirko Sì sì Ma vieni È ovvio Quando non sai chi vince Basta che dici Mirko 90% delle volte È sempre così baby Lunedì 25 giugno Esce No è facile Mirko rasato Mirko nudo per strada Mirko truccato Mirko con capelli tinti Non lo sapevo Dico rasato perché è l'unico video Che abbiamo fatto ma Corretto C'è proprio le date E io Che dura è sta caramella Ti sei mangiato un dente Facciamo che arriviamo a 15 Dai Ah certo Quando sto vincendo io No perché se no il video è troppo corto Dai Va bene Poi non arriviamo a 10 minuti Non facciamo tanti soldi Ciao Come si chiama il canale che Momitorizza Copia i loro video Odiamo Mirko e Alice La coppia che scoppia La coppia che scoppia 2 La coppia che scoppia Punto esclamativo La coppia che scoppia Punto esclamativo Giusto Domanda interessante questa Sì Sono rotto i denti con questa caramella A quale gioco Mirko è sempre ossessionato Vabbè non leggo neanche le Mi ha fatto ricordare che dove aprire i bauli Clash Royale Giusto 9 a 8 per te 9 a 8 Penso il risultato corretto è quello che vedete nella grafica Non quello che diciamo noi Perché me lo sono dimenticato Chi ha vinto la mangio la scarti challenge Non lo so Nessuno dei due Vabbè sta scavendo il tempo Io dico Alice Alice E vai Veramente l'hai vinto tu Sì Se la ricordo perché è una delle poche volte che vince Sì Comunque siamo Peccato che all'inizio caro Vincevo sempre io Sì 10 a 9 per te Anche se secondo me tu sei più sopra di 2 Allora quali sono le ultime due challenge che sono uscite nel canale youtube giugno 2018 Prima della indovina la canzone Questa è difficile Lo mangio lo scarti più diretti challenge Whisper challenge più diretti challenge Ehi mai più lo mangio lo scarti Whisper challenge più hai mai 12 secondi hai Io dico Oddio vi ricordo 7 6 Whisper challenge più No 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 La mangio lo scarti La prima La prima Che culo ho sperato a caso Nooo E mangio come un maiale Ogni cosa che Maggio Che vedo è una bontà Boh non lo so Bevo è una bontà Mangio è una bontà Mangio è una bontà Ogni cosa che Maggio è una bontà Dai secondi Ti sfondo tutto il locale Metti pure sul conto di mio papà patatine Quale squadra ti fa Alice Squadra Mirko smettila Io dico toro Giusto Con l'augurio che quest'anno andiate in serie B Ma che stronzo Sto scherzando Mirko ha una sorella o un fratello Ha una sorella Giusto Niente Come fai a saperlo L'ultima 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 domanda facciamo Come si chiama la sorella di Alice Angela Io dico te Io dico te Allora ragazzi Siccome sono esaurite le domande Io direi che questa challenge La vince Quello che in questo momento È in vantaggio Cioè io Nella grafica Cioè Alice Due sconfitte di fila Sai cosa ho un po' paura Che la prossima la perdo Sai Non lo sento Ragazzi Sapete perché dice così Perché questa è soltanto del nostro canale Quindi molto semplice Molto corta Molto tranquilla Ma la prossima challenge Quella di domani La faremo Con tutta Youtube Italia Ecco Non ci saremo solo noi Che lei fa la figa Perché si ricorda pure le date Di quando è andata a cagare E ha scorreggiato Ha tirato E allora lì Io le farò un mazzo tanto Perché io sono molto acculturato Su Youtube Italia Cari amici followers Buongiorno Scrivete Nei commenti La penitenza Che devo fare Però ragazzi Non scrivete tutti la stessa cosa Perché Nello scorso video Ci sono stati 450 commenti Con scritto Va in balcone ad urlare È figo Cioè lo faccio Però ne basta uno Non è che Se lo scrivete in 450 Io esco 450 volte Ragazzi Sbizzarritevi Dite cose più interessanti Una che mi è piaciuta molto È metti tutto il ghiaccio Nelle mutande Madre Eh io una volta l'ho fatta Per una penitenza del genere Vi assicuro che Non è per niente piacevole Ci vediamo Domani A sempre Alla solita ora Con Youtube Con Chi ne sa di più Di Youtube Italia Ovviamente Mirko Vai a spegnere la telecamera Che vedo stota Ma perché sempre io Vado Aia ma hai fatto male Pezza di strutto Lascia un commento Metti mi piace Cosa ti costa Del che sei capace La coppia che scoppia Se il video ti è piaciuto Lascia un commento E iscriviti al canale La coppia che scoppia Sono come noi La vita di coppia Vissuta l'erore La coppia che scoppia È un'esplosione Mirko ad Alice D'un giorno nostro Poi D'un giorno nostro